Questo è l'angolo dei ricordi e non riesco proprio a farne a meno. Oh Magda, mi fa molto piacere vederti. Vieni, vieni avanti. Ti presento Silvia. Ma tu pensa Silvia, Magda è cresciuta insieme ai miei due nipoti. Suo padre, Don Ernesto Benavides, e mio marito Buonanima sono sempre stati ottimi amici e dopo tanto tempo si realizzerà quello che hanno sempre sognato. Silvia sarà la futura moglie di Juan Carlos. Ah, io non lo sapevo. E Magda sarà invece la sposa di Gonzalo. Di Gonzalo? Sì. Ne sono felice. Anch'io lo sono per te. Accomodati. Voglio che voi sappiate che io sono molto orgogliosa che voi entriate a far parte della nostra famiglia. Sì, 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 sono sicura che renderete felici i miei nipoti. Ma presto dovrete farvi carico di una grande responsabilità, continuare il mio operato, fare in modo che il nome di questa famiglia continui ad essere sempre quello che è stato. E un giorno, quando anche voi avrete dei bambini, Sì, bene, voi dovrete fare in modo che anche i vostri figli meritino il patrimonio che hanno ereditato.